Il 6 gennaio 1955 Ad iniziativa di un gruppo di studenti universitari e medi Fu organizzato a Milano, nel Salone degli Affreschi e della Società Umanitaria Un ciclo di sette conferenze sulla Costituzione italiana Invitando insigni cultori del diritto ad illustrare in modo accessibile a tutti I principi morali e giuridici che stanno a fondamento della nostra vita associata Il corso è stato inaugurato e concluso da Piero Calamandrei E non senza nostra viva commozione, egli ritorna oggi tra noi Con la sua eloquenza nobile pur semplice, con dottrina profonda Scientificamente serena e civilmente incitatrice La parola del maestro indimenticabile suona oggi ancora come un altissimo richiamo All'impegno scientifico e morale di tutti i giovani Che si apprestano ad una sempre rinnovata battaglia di civiltà, di progresso, di libertà Ecco la parte sostanziale di ciò che gli disse Introducendo il corso e precisando i fondamenti storici della Costituzione L'articolo 34 dice Il più impegnativo Impegnativo per noi che siamo a declinare Ma soprattutto per voi i giovani che avete l'avvenire davanti a voi Dice così E' compito della Repubblica Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale Che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini Impediscono il pieno sviluppo della persona umana E l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori All'organizzazione politica, economica e sociale del Paese E' compito di rimuovere gli ostacoli Che impediscono il pieno sviluppo della persona umana Quindi dare lavoro a tutti Dare una giusta retribuzione a tutti Dare la scuola a tutti Dare a tutti gli uomini Dignità di uomo Soltanto quando questo Sarà raggiunto Si potrà veramente dire Che la formula contenuta nell'articolo primo D'Italia è una Repubblica democratica Fondata sul lavoro Questa formula corrisponderà alla realtà Perché fino a che non c'è questa possibilità per ogni uomo Di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro I mezzi per vivere da uomo Non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro Ma non si potrà chiamare neanche democratica Perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto In cui ci sia soltanto un'uguaglianza di diritto È una democrazia puramente formale Non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente Siano messi in grado di concorrere alla vita della società Di portare il loro miglior contributo In cui tutte le forze spirituali di tutti i cittadini Siano messe, è vero, a contribuire a questo cammino A questo progresso continuo di tutta la società E allora voi capite da questo Che la nostra Costituzione è in parte una realtà Ma soltanto in parte è una realtà In parte è ancora un programma Un ideale Una speranza Un impegno Un lavoro da compiere Quanto lavoro avete da compiere? Quanto lavoro vi sta dinanzi? La Costituzione non è una macchina Che una volta messa in moto va avanti da scena La Costituzione è un pezzo di carta La lascio cadere e non si muove Perché si muova? Bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile Bisogna metterci dentro l'impegno Lo spirito La volontà di mantenere queste promesse La propria responsabilità Per questo Una delle offese Che si fanno alla Costituzione è L'indifferenza alla politica L'indifferentismo Che è Non qui per fortuna In questo uditorio Ma spesso in larghi stati In larghe categorie di giovani Un po' una malattia dei giovani L'indifferentismo La politica È una brutta cosa Che me ne importa della politica? E io quando sento fare questo discorso Mi viene sempre in mente Quella vecchia storiellina Che qualche uno di voi conoscerà Di quei due emigranti Due contadini Che attraversavano l'oceano Su un piroscafo Traballante Uno di questi contadini Dormiva nella stiva E l'altro stava sul ponte E si accorgeva Che c'era una gran burrasca Con delle onde altissime E il piroscafo Oscillava E allora questo contadino Impaurito Domanda a un marinaio Ma siamo in pericolo? E questo dice Se continua questo mare Tra mezz'ora Il bastimento affonda Allora lui corre nella stiva A svegliare il compagno E dice Beppe, Beppe, Beppe Se continua questo mare Tra mezz'ora Il bastimento affonda Quello dice Che me ne importa Nemica mio Questo è l'indifferentismo Alla politica E' così bello E' così comodo E' vero E' così comodo La libertà c'è Si vive in regime di libertà C'è altre cose da fare Che interessarsi di politica E lo so anch'io Ci sono Il mondo è così bello Ci sono tante belle cose Da vedere Da godere Oltre che occuparsi di politica E la politica Non è una piacevole cosa Però La libertà è come l'aria Ci si accorge E di quanto vale Quando comincia a mancare Quando si sente Quel senso di asfissia Che gli uomini Della mia generazione Hanno sentito Per vent'anni E che io auguro A voi Giovani Di non sentire mai E vi auguro E vi auguro Di non trovarvi mai A sentire Questo senso di angoscia In quanto vi auguro Di riuscire A creare voi Le condizioni Perché questo senso di angoscia Non lo dobbiate provare mai Ricordandovi ogni giorno Che sulla libertà Bisogna vigilare Vigilare Dando il proprio contributo Alla vita politica La Costituzione Vedete È L'affermazione Scritta In questi articoli Che dal punto di vista letterario Non sono bezzi Ma è l'affermazione Solenne Della solidarietà Sociale Della solidarietà Umana Della sorte comune Della sorte comune Che se va a fondo Va a fondo Per tutti Questo bastimento È la carta Della propria libertà La carta Per ciascuno di noi Della propria dignità D'uomo Quindi voi giovani Alla Costituzione Dovete dare Il vostro spirito La vostra gioventù Farla vivere Farla vivere Farla vivere Sentirla come cosa vostra Metterci dentro Il senso civico La coscienza civica Rendersi conto Rendersi conto Io ho poco altro Che ci si sentono Di offesa Quando io leggo E quando leggo All'articolo 27 Non è ammessa La pena di morte Ma questo O studenti milanesi E' beccaria Grandi voci lontani Grandi nomi lontani Ma ci sono anche Umidi nomi Voci Recenti Quanto sangue Quanto dolore Per arrivare a questa Costituzione Dietro a ogni articolo Di questa Costituzione O giovani Voi dovete Vedere Giovani come voi Caduti Combattendo Fucilati Impiccati Torturati Morti di fame Nei campi di concentramento Morti in Russia Morti in Africa Morti per le strade Di Milano Per le strade Di Firenze Che hanno dato La vita Perché la libertà E la giustizia Potessero essere scritte Su questa carta Quindi quando vi ho detto Che questa è una carta morta No, non è una carta morta Questo è un testamento Un testamento Di centomila morti Se voi volete andare in pellegrinaggio Nel luogo Dove è nata la nostra Costituzione Andate nelle montagne Dove caddero i partigiani Nelle carceri dove furono imprigionati Nei campi dove furono impiccati Dovunque è morto un italiano Per riscattare la libertà E la dignità Andate lì, o giovani Col pensiero Perché lì è nata la nostra Costituzione E le genti Che passeranno Oh bella ciao Bella ciao Bella ciao 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 E le genti Che passeranno E mi diranno Che bel fiore E questo è il fiore Del partisano Oh bella ciao Bella ciao Bella ciao 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 E questo è il fiore Del partisano E' morto per la lì E questo è il fiore Del partisano E' morto per la lì Berta E' morto per la lì 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 Grazie a tutti.